Comitato Pendolari di Quarto Veltino Da 15 dicembre 2013 la Regione Veneto e Trenitalia hanno distrutto il trasporto ferroviario regionale con l'introduzione dell'orario cadenzato. Avevamo corse conquistate da anni, quelle quali ci permettevano di andare a lavoro a Venezia tutti i giorni dell'anno e ce le hanno tolte. Il costo degli avvolamenti sono aumentati, ma le corse no. Hanno sia aumentato di fatto le corse giornaliere, da lunedì a venerdì però, fino a mestre. Molti pendolari, oggi come oggi, hanno abbandonato il treno per l'auto perché non ci si arriva più puntuali nei luoghi di lavoro, nei sabati, festivi e estivi. Di sera e di notte poi non ne parliamo. Da quarto per Venezia abbiamo, da lunedì a venerdì, la corsa delle 4.52, 5.45 che qua bisogna scendere a mestre facendo una staffetta con una corsa di 100 metri sperando che il binario 5 ci sia la coincidenza per Venezia. Roba da matti. Poi 6.10, 19.17, festivi non c'è. Queste corse non le troviamo nei sabati e nei festivi. Per cui in questi giorni l'auto è d'obbligo da Venezia per Trieste le corse che avevamo delle 21.26, mezzanotte 21, mezzanotte 36, ce le hanno tolte e ci hanno messo due pulma incapienti. Ora abbiamo queste corse dal lunedì al sabato, 22.11, 22.41, ultima corsa da Venezia per Trieste. Mentre nei festivi la corsa delle 20.11 non c'è. Per cui c'è una corsa alle 19.41 per poi attendere fino alle ore 22.11 con l'ultima corsa serale che è appunto alle 22.41. rivolgiamo le corse che ci hanno tolto. Non vogliamo inquinare l'ambiente per colpa loro con le nostre macchine e rischiare incidenti nelle prime ore di mattina e notturno. Grazie, buona giornata.